Con il segno della croce ci ricordiamo di quanto Dio ci ha amato. Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus celebrato ieri in Piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve stralcio. Il nostro Dio è comunione di amore e così ce lo ha rivellato Gesù. E sapete come possiamo fare a ricordarlo? Con il gesto più semplice che abbiamo imparato da bambini. Il segno della croce o il segno della croce. Con il gesto più semplice, con questo segno della croce, tracciando la croce sul nostro corpo, ci ricordiamo quanto Dio ci ha amato fino a dare vita per noi. E ripetiamo in noi stessi che il suo amore ci avvolge completamente dall'alto in basso, da sinistra a destra. Come un abbraccio che non ci abbandona mai. E al tempo stesso impegniamo a testimoniare Dio amore creando comunione nel suo nome. Oggi allora possiamo chiederci, noi testimoniamo Dio amore? Oppure Dio amore è diventato a sua volta un concetto, qualcosa di già sentito, che non smuove e non provoca più la vita? Se Dio amore le nostre comunità lo testimoniano, sanno amare, le nostre comunità sanno amare. E la nostra famiglia sappiamo amare in famiglia. Teniamo la porta sempre aperta. Sappiamo accogliere tutti, e sottolineo tutti. Accogliere come fratelli e sorelle. Offriamo a tutti il cibo del perdono di Dio e la gioia evangelica. Ci rispira aria di cassa? O assomigliamo più a un ufficio? O a un luogo riservato dove entrano solo gli eletti? Dio è amore. Dio è padre, figlio, lo Spirito Santo. Gli ha dato la vita per noi, per questo la croce. Gli ha dato la vita per noi, per questo la croce.